Una delle facce che vorrei vedere di più è quella della mia compagna di banco che mi ha aiutato tantissimo quando mancavo da lezione perché magari avevo un concerto, lei mi dava gli appunti non la ringrazierò mai abbastanza per questo e vorrei vedere la sua faccia nel momento in cui le dirò che sto facendo questa esperienza, questo viaggio Eccola! Ciao Orali! Ciao Lindy, come stai? Bene, tu? Anche io, indovina da dove ti chiamo? Sono praticamente nelle parti della mensa del CERN Ah però! Hai capito? Quindi ho voluto rifiutarti un attimo nella fisica, ti mancava? Ma sì, devo dire che è un posto molto bello che mi fa ripensare a tante cose ma soprattutto mi ha fatto ripensare agli anni che abbiamo passato insieme in università ad aiutarci a vicenda, soprattutto tu aiutavi me, questo diciamolo Io ho ancora le relazioni scritte da te, le relazioni in laboratorio, quindi insomma è stato un aiuto reciproco, dai! Eh, più o meno dai! E allora visto che, non lo so, in questo posto mi sta emozionando così tanto e volevo in qualche modo portare anche te qui un pochino Bello! Mi piace! Mi piace! Mi piace molto l'idea Pensare che oggi ci sono ancora posti come il CERN, insomma rincuora Senti, ma se tu fossi con me qua, dove vorresti andare? Dove vorresti essere portata? Cosa vorresti fare? Vai direttamente nel tunnel, dirai! Direttamente nel tunnel? Direttamente nell'HC! A parte che sì, che chiunque può venire qua, quindi se tu fai un'application, fai domanda, magari, capito, da qui a quattro mesi ti dicono puoi venire e fai un giro anche te qua, capito? Sì E poi tu sei una a cui l'iniziativa non manca, non è mai mancata Io ho davanti agli occhi quando sei venuta fino a Roma e sei venuta a fare il tifo per me Certo! 4 dicembre 2010 2010 2010, nello studio di amici, miseria, mi trovo ancora la voce a pensare E ti ricordi che mi avevi scritto quel cartellone bellissimo, mi avevi fatto un cartellone Io avevi scritto E uguale MC quadro Lindy, ho tanta voglia di vederti, però dobbiamo organizzare una volta di venire qua insieme a fare un giro Nel frattempo facciamo anche una vacanza, andiamo sul lago Volentieri Ci divertiamo, dai, dobbiamo farlo Volentieri Wow, fantastico, sarebbe bellissimo, veramente Ciao Lindy Grazie Ciao Ciao